Un'ultima domanda che vorrei farti è che consiglio daresti a un giovane o una giovane che si trovi a dover scegliere se fare un percorso di stage, come orientarsi rispetto all'uscita dal mondo della formazione, quindi rispetto all'ingresso nel mondo del lavoro? Sicuramente il consiglio numero uno, il principale, è quello di essere attivi e proattivi, cioè conoscere i propri diritti e doveri, spendere del tempo per approfondire il quadro normativo di riferimento, approfondire e comparare le varie opportunità sul mercato, senza guardare solamente all'Italia ma guardando anche all'estero. Quello che io penso è che molto spesso le situazioni di difficoltà e di criticità si verifichino più spesso quando le persone hanno meno strumenti per rendersi conto della situazione che stanno vivendo, cioè se quello che viene loro richiesto è legale, se il loro stage è inquadrato correttamente a livello formale, se quello che il tutor assegna loro da fare è qualcosa di coerente con il progetto formativo che loro hanno firmato e concordato, quindi sapere, diciamo, conoscere la terminologia dello stage e le regole del gioco è sempre molto importante e ancora prima, quindi direi ancora uno step antecedente, conoscere l'universo di riferimento, quindi io direi mai arrivare impreparati a uno stage, cercare di sceglierlo bene e di essere pienamente consapevoli nel momento in cui lo si fa. E poi ovviamente se c'è qualche problema, se c'è la repubblica degli stagisti, come ci sono anche altre realtà che possono aiutare gli stagisti, non siamo solo noi, però insomma voglio dire poi la difficoltà può accadere a tutti, il problema che sembra risorbibile, il bisogno di un consiglio, anche semplicemente di un parere, però se si parte già forti di una conoscenza, di un piccolo approfondimento, si arriva più preparati e quindi si è, diciamo, più attrezzati per l'eventuale battaglia. Tra l'altro a proposito di scelte consapevoli e informati, sul sito della Repubblica degli Stagisti è presente una selezione di aziende che sono state individuate in base a determinati criteri di qualità degli stagisti che offrono, giusto? Certo, noi abbiamo sul nostro sito proprio una sezione che si chiama Aziende Virtuose con le aziende che decidono di far parte del nostro RDS Network. Per entrare nel network l'azienda deve impegnarsi a condividere con noi alcuni valori di base rispetto alla qualità delle esperienze di stage offerte ai giovani e alla trasparenza delle condizioni, quindi la policy sugli stage, quanti soldi offrono agli stagisti, se offrono anche degli altri benefit oltre all'indenità mensile, qual è il numero medio di stagisti che ospitano ogni anno, qual è la percentuale media di stagisti a cui poi viene offerto un contratto di lavoro al termine dell'esperienza formativa, quindi sono tutte informazioni che sono pressoché introvabili nel mercato del lavoro comune, cioè nella normalità degli annunci di stage di lavoro queste informazioni non si trovano quasi mai, noi però invece crediamo fortemente nella trasparenza e quindi coinvolgiamo le imprese che scelgono di fare parte del nostro network in questa operazione trasparenza in cui loro si raccontano senza filtri e senza veli ai nostri lettori impegnandosi poi tra l'altro a offrire delle buone condizioni, tra l'altro noi diamo anche ogni anno dei premi che noi chiamiamo gli awards, che è un gioco di parole perché le ultime tre lettere fanno l'acronimo di Repubblica degli Stagisti e premiamo ogni anno l'azienda che ha il riborso spese mensile più alto, quella che ha il tasso di assunzione postage più alto, quindi insomma le nostre aziende sono veramente aziende, sono tutte virtuose e alcune proprio in anno dopo anno poi ovviamente le vincitrici di questi awards cambiano ma a noi piace premiare anche quelle che eccellono e che riescono a magari per un anno in particolare a raggiungere dei risultati straordinari. Tra l'altro il fatto che queste aziende esistano e che espongano anche le loro condizioni così buone permette anche di avere una pietra di paragone, un benchmark e quindi anche ai giovani di capire che quando ricevono un'offerta al ribasso non necessariamente devono accettarla perché c'è anche altro nel mercato del lavoro perché molto spesso può accadere di accettare un'offerta a condizioni non buone nell'erronea convinzione che non ci sia altro di meglio nel mercato del lavoro mentre invece conoscere il fatto che ci sono aziende che invece ai loro saggisti offrono un'indenità più alta, una qualità formativa migliore può anche simulare i giovani ad essere a cercare diciamo di più, cercare una qualità più alta per la loro esperienza e può anche spingere le aziende che invece magari recalcitranti e che cercano di dare il meno possibile può spingerle a migliorare le condizioni offerte agli saggisti per stare meglio sul mercato e per trarre di più i candidati migliori, quindi io penso che dalla trasparenza tutti possano trarre giovamento nel mercato del lavoro, purtroppo il mercato del lavoro italiano è molto opaco ma su questo bisogna lavorare.